Una bella località, ci eravamo già stati anni fa, ci siamo ritornati col bimbo e siamo rimasti decisamente soddisfatti. Il turismo vola a Cortona che sotto il sole della Toscana, in questa Pasquetta cade come il cacio sui maccheroni, incanta e rapisce italiani e stranieri. L'ultimo colpo Cortona lo assesta grazie all'indagine del portale R&BnB, il canale telematico più importante ed influente per le prenotazioni di appartamenti privati, che ha stilato la classifica delle città più ospitali d'Italia. Al primo posto c'è proprio Cortona, seguita da Orvieto, terza Scandici, probabilmente come porta usata per Firenze e quarta Molte Pulciano. Come si dovrebbe sentire allora un turista che arriva a Cortona? Io direi a casa, semplicemente e temporaneamente, quindi deve essere un cittadino temporaneo, come dire, di questa città e quindi si deve sentire in un luogo intanto vero e quindi non costruito, non finto, non artefatto, ma un luogo in cui riscopre appunto quelle che sono le tradizioni, la cultura di questo territorio, non solo le riscopre ma anche in qualche modo ne usufruisce e ne gode il più possibile. I turisti potevano assegnare un massimo di 5 stelle, l'89% delle recensioni a 5 stelle sono state proprio per Cortona. Successo in generale del centro Italia con sei destinazioni nelle prime dieci. Arrivati ora, abbiamo lasciato la macchina al parcheggio e abbiamo preso le scale immobili. Quindi non avete soggiornato? No, veniamo da Arezzo.